Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni dal 18 al 22 aprile. Andiamo a vedere cosa accadrà nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore. Gemma non accetta il fatto di essere stata lasciata e non si arrende, è convinta di poter riconquistare Marco. Ma la contessa mette in guardia la zanatta. Lei vorrebbe che Gemma tornasse con il nipote, ma è consapevole che lui non è della stessa idea. La mette in guardia riguardo a Marco e cerca di farle capire che non c'è alcuna possibilità di recuperare il loro rapporto. Se Gemma vuole conquistare il Santerasmo, lui vuole conquistare Stefania e dice alla Venere che è disposto ad aspettarla. La aspetterà ogni sera in piazzetta alle 7. Stefania è confusa dall'atteggiamento di Marco. Marco non vuole far soffrire Gemma e si confronta con sua mamma Gloria. La capocommessa la incoraggia ad assecondare i propri sentimenti. Non deve rinunciare all'uomo che ama. Alla fine, la figlia di Ezio raggiunge il nipote della contessa nella piazzetta. Decide di ascoltare i consigli della mamma Gloria. Tra i due scatterà un altro baso, lungo e appassionato, ma questa volta la cosa non finisce lì. Hanno intenzione di frequentarsi seriamente, come una coppia. Questa volta Stefania non vuole rinunciare al giornalista. Nei primi episodi della settimana, Gemma era convinta di poter riconquistare l'ex fidanzato, ma andando avanti capisce che questo non è possibile. Marco è così lontano e la zanatta comprende quindi che la ragione può essere Stefania. Intuisce che questa volta la sorellastra non si sta facendo da parte. Nella puntata di venerdì 22 aprile avrà una prova dei reali sentimenti di Marco e di Stefania. Riguardo a Marcello, da quando c'è Torre Bruna, si sente sempre più a disagio al circolo e così medita di lasciare il suo ruolo da vice direttore. Ne parla con Armando e gli dice che non riesce più a sopportare di vedere Ludovica e Ferdinando così vicini. Si sente a disagio anche perché Torre Bruna è stato in grado di pagare l'operazione di Flavia, cosa che lui non può fare e che non sarebbe mai in grado di fare. Tra l'altro il rapporto tra Ludovica e il barista potrebbe peggiorare ulteriormente in quanto Torre Bruna, visto la vicinanza con la brancia degli ultimi tempi, si sente autorizzato a farle una dichiarazione d'amore. Nel frattempo la figlia di Tancredi vorrebbe partire per gli Stati Uniti per accompagnare la mamma Flavia ad operarsi. Ma Flavia non può accettare, altrimenti la figlia scoprirebbe tutta la verità, ovvero che è una farsa e che lei sta benissimo. E infatti nella puntata di venerdì 22 aprile Flavia parte per gli Stati Uniti senza dire nulla alla figlia. Ludovica inizierà a sospettare qualcosa riguardo alla mamma? Le puntate stanno giungendo al termine in quanto l'ultimo episodio del Paradiso delle Signore è previsto per il 29 aprile. La settimana dal 18 al 22 è quindi la penultima per questa stagione.